Periedita diminuita, prima inversione, seconda inversione, diminuita, primo rivolto, seconda inversione, diminuita, prima inversione, seconda inversione, diminuita, prima inversione, secondo rivolto. Una cosa sulla quale devi lavorare tanto e devi scattare automatico è traslare sul manico tutte le forme degli stati fondamentali, ovviamente del primo rivolto, spero si inquadri bene della seconda inversione e non avere ovviamente titubanze, cioè nel senso non devi assolutamente avere nessun tipo di dubbio sul fatto che questo sia un primo rivolto, per cui trovarle tutte primo rivolto, primo rivolto, ovviamente primo rivolto, primo rivolto, per cui dire ovviamente lo stato fondamentale, lo stato fondamentale, lo stato fondamentale, lo stato fondamentale, la prima inversione, la prima inversione, la prima inversione, la prima inversione, come l'hai già fatto nel fatto di dire lo stato fondamentale maggiore, maggiore, piuttosto che il primo rivolto, il primo rivolto, il primo rivolto, piuttosto che, che ne so, lo facciamo minore, minore, secondo rivolto minore, eccetera, eccetera. Deve essere chiaramente fatto anche per quello diminuito, la seconda inversione, la seconda inversione, la seconda inversione, per cui vedi senza nessun tipo, ecco, però si veda nessun tipo di dubbio, ok?